un gradito ritorno agli osce oliva dopo una decina d'anni torna a no in realtà non è vero perché ho giocato un torneo a malta prima del covid e quindi sei però tornato in italia da tanto in zona italia diciamo che non venivo al perla erano 10 11 anni e ti chiedo subito come trovi cambiato il movimento rispetto a tanti anni fa io devo dire che qui al perla sono rimasto un po colpito del fatto che non ho trovato tanti dei soliti giocatori che frequentavano questo casino penso di aver incontrato solo un cinque sei persone che conoscevo dai tempi che furono ci sono tanti tanti giocatori nuovi hanno abbandonato tu online eri uno specialista di heads up ti ricordiamo lo giochi ancora purtroppo pochissimo qualche mtt anche perché l'heads up sit and go è morto ormai si gioca solo spin and go però spin and go è un altro gioco perché praticamente sei all in quando decidi di entrare sei all in dopo i primi due livelli quindi non è non è un gioco che ti piace no io ti ringrazio di questa veloce battuta ti faccio tornare a giocare perché siamo a due minuti rimanenti di break quante cip hai al momento adesso 132 132 su stea vera il sessant'oggi al doppio tavolo come due tre giocatori molto bravi il resto media bene noi siamo contentissimi di averti rivisto qui ai tavoli e salutiamo grazie a tutti